Hey Warriors! Buon appetito! Buon appetito e buon appetito nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmatissimo video game play Questa volta su The Walking Dead Episodio 5 Non c'è più tempo Quindi, dato che non c'è più tempo Vediamo di sbrigarci Ed andare subito con questo game play Yeah Ok, nel frattempo so anche Il frattempo so che i miei parenti vengono a casa e non sono qui Ho la mia walkie talkie in caso di provare in questo modo Hey, c'erano delle batterie in una delle boxe Qui, puoi avere delle anche Ma stiamo a Savanna e i miei parenti erano a Savanna Siegono sempre nel stesso posto quando vengono The Marshalls? Sì, è proprio Sì, è proprio E' un po' che non gioco la The Walking Dead Tipo una settimana e passa Forse anche due No, no No Clementine è fuori O quale è che è Ho dovuto trovare La troviamo Abbiamo una migliore chance di trovare Se siamo tutti insieme Chi è con me? Siamo cercando a Clementine insieme Oh, ok Oh, ok, bene Finalmente possiamo giocare Vediamo di concludere questo gioco Capito quello che è? Questa serie si è adatta alle scelte che fai La trama è plasmata dal tuo modo di giocare Ok Fammi giocare però Questa è Fuori qui Non c'è nessun problema Qui Allo che voglio è la ragazza L'altra 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 Clementine Sei bene? L'altra 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 Non faccio più male a nessuno Ma che è? Filini Facci dai Ma Ecco Che C'è Cosa è? Un'escuo. Guarda solo, Clementine. Sono venuto per te. Non preoccuparti, ragazzi. Siamo tornata. Ok. E... Quindi ora, se non... Ricordo male... Eh. ... 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